E' bello a tutti ragazzi, con la sua Bicchi Ascio e oggi ritorniamo su Piggy 2. Allora, la scorsa volta abbiamo provato e visto il capitolo 3. Adesso proviamolo a vincere, anche perché credo che non riuscirò che è troppo glitchato in questo cellulare, perché il mio cellulare non è che è tanto potente. Vabbè, proviamo a vincerlo. Ok, sono arrivato in tempo. Ok, provo per un altro capitolo. Ci vediamo fra poco. Ah, comunque la scorsa volta non vi ho fatto vedere le skin nuove. Eccolo qua. Una nuova skin Tigri. Allora, io mi tengo sempre l'ascio perché è bello. Quando esce una skin, un'altra skin che mi piace tanto. Comunque, 3 Tigri forse me lo compro perché mi sembra un figo. Ma dai, basta! Ma raga, comunque se dopo non ci riusciamo, vediamo il finale da YouTube. 3 Tigri. Ti prego, 3. Ti scongiuro. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Gordo come un riccio. Succa. Player. Oh, se fai infection ti ammazzo, lo giuro. Fai player. Player. Ieri. Scusi, non stai qua. Infection. Bene. Siamo morti. Abbiamo perso. Bene. Che vita è in me. Raga. Abbiamo perso. Dobbiamo solo sperare che venga qualcuno e che non muoia nessuno. Quanti siamo? Oh, raga, io provo una volta o due, non so. Se mi rompo andiamo a guardare la roba da YouTube. Dice, sono solo io. Bene. Forbici, forbici. Devo fare presto. Ecco. Ma cosa? Ma cosa, già? No, ti prego. Non mi fai niente. Ti prego. Mi sto facendo niente. Ti prego, non mi ammazzare. Allora, chiave verde. Ammazzato. Anche io ho mangiato qualcuno. Game over, sì. Che bello. Abbiamo vinto. Sì. Allora, se so che tu vuoi fare il capitolo 2. Ma ti prego. Fatemi fare che a sto capitolo 3 che io sto registrando e tu vuoi solo il capitolo 2. e basta. Ti prego. Eh, vabbè. Grazie. Sempre capito. C'è un player. Tu vuoi trad... Tu. Come vuoi bro. Se sono un traditore. Non ti ammazzo. Te lo dico. Non ho capito chi è. Io ho il traditore. Non sono io il traditore. Sono io o no? Non ho capito. Ah, sono io il traditore. Bene. Ok. Sei tranquillo. Non mi ammazzo. Non mi ammazzo nessuno perché io voglio finire il tuo cabello. Ci sono delle forbici. No, no, no. Dio. Dio capra. No. No. Non io, ti prego. Chi ha le forbici? Apri! Chi cazzo ha le forbici, raga? Non ci sono le forbici, ma cosa? Il coltello. Vabbè. Non ci sono le forbici. Dove sono le forbici, raga? Vabbè, ammazzo. Ho un coltello. Anche io sono le forbici. Grazie, ero con te. Andiamo a vedere da YouTube. Ok. Un attimo. Torniamo di ecco. Ok. Dove vi spiego tutto. Allora, vi spiego. Allora, noi abbiamo salvato Ziggi, entrando in questa fabbrica, l'hanno rinchiuso. E in qualche modo sono arrivati degli infetti. che Ziggi, però, ha riuscito a sconfiggerli. Ok. Continua. No. 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 oh my god ragazzi allora praticamente hanno infettato zizi qualcuno qualche infetto ha colpito hanno infettato zizi ii ma io sto musichetto non andiamo a niente senza te, possiamo ottenere la tua scuola musica che aiutare pony troviamo una cura, possiamo salvarti se non c'era una cura, non ci sarebbe allora praticamente adesso andremo alla ricerca di una cura per curare zizi credo che quella pozione che abbiamo visto nel trailer possa la cura per gli infetti ecco and be here in pony you don't want to see me turn into one of them so yeah no I'll create a distraction and sabotage as much as I can watch you escape oh no zizi ok sei a braccio ok però meglio andare prima che infetti e credo che potremmo anche salvare doggy e bunny che sono stati infettati anche loro credo credo che non sono morti ma sono stati infettati eh ecco oh le sisters ritornano senza zizi chissà perché oh no ok ragazzi questo era il finale di pd no questo era il finale del capitolo del capitolo 3 di pd2 non so che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo alla prossima ciao ciao ciao